Benvenuti in questo nuovo video. L'argomento di oggi è un argomento per adulti. Stiamo parlando di tasse. Sì, perché è maggio, quindi è il momento di scaricare il 730 precompilato, il proprio 730 precompilato, dal sito dell'Agenzia delle Entrate. E quindi ho pensato che il modo migliore per marcare questo momento fondamentale nell'anno fiscale è un gioco dove bisogna letteralmente calcolare le proprie ritenute fiscali. Il gioco è stato sviluppato da Nota Sailor Studio e ovviamente è disponibile su Itch. Ma banda le ciance e mettiamoci subito a calcolare le nostre detrazioni. Prima nota positiva, abbiamo un menu, a differenza degli ultimi due video. Io non so assolutamente niente di questo gioco, so solo che qualcuno si congratulava per il twist del gioco. Quindi, vediamo. Ok, quindi ciò che sono tasse va a sinistra, la spazzatura va a destra. Quindi, pubblicità del caffè, spazzatura, tazze, tasse, tasse e tasse. Bene. Tasse completate. Oggi ho fatto 9 tasse, abbiamo buttato via 6 cose e ci hanno ridato 26.000 dollari, proprio americani, eh? Di questi soldi. Ah, devo firmare. Ok, beh. Grande interazione. Giorno successivo. Ok. Per oggi il nostro l'abbiamo fatto. Giorno 2. Tasse, tasse. Si tiene, si tiene, si tiene, si tiene. Spazzatura. Mamma mia. E anche giorno 2 è andato. Addirittura ci hanno ridato la bellezza di 38.000 dollari oggi addirittura. Giorno successivo. Ah, l'assegno lo teniamo. Questo teniamo, teniamo. Eh, comunque, questo è un bel modo di fare le tasse. Basta... Da una parte tieni, dall'altra butti. Anche il 7.30, quello... Il 7.30 precompilato lo fanno così, eh? Non so se lo sapevate, ma... C'è un impiegato che fa esattamente questo. Uh, l'atmosfera si fa più oscura. Non so perché. Qui è solo spazzatura. Attenzione a vederlo così. Come mai? Che succede? Non esaurito le bollette, anche perché abbiamo fatto 150.000 dollari in tre giorni. Ok, infatti non ci hanno ridato niente. Firmiamo. Ah, niente. È tornato il giorno. Sarei curioso di sapere cosa succede se sbaglio, ma non voglio sbagliare. No, ho sbagliato. Eh, adesso morirò. You've been watched. Quello era interessante, però, eh? Mi è preso un leggero colpo. Sarò sincero. Temo che questo gioco abbia il twist di quelli di cui parlavano le persone. Credo sia horror e... Mi preoccuperà. Error. Attenzione, la calcolatrice dà un errore. Non capisco se effettivamente sbagliare... ...sia veramente un errore. Ah, c'è di nuovo quel you've been watched. Voglio vedere cosa diavolo dice. Credo che una voce mi abbia appena detto stop. E quindi mi toglierò un auricolare. Questo risvolto horror non me lo meritavo. Perché si è fermata la musica? Oh mio Dio, c'è un messaggio. Ah, sono i Linkin Park che ce lo dicono. Ma alla fine ha senso. Non ho capito cosa ha detto la voce e sono contento così. Forse ha detto don't leave me? Uh, spazzatura? Io li butto. Non accetto cose scritte in lingue che non conosco. Via, 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 via. Campa tutto via. Spazzatura, spazzatura. Però quella letterina secondo me io la terrei. Perché comunque è una lettera. Quante cacchio ce ne sono? Inizio a sospettare che sia un loop. Allora lo tengo. Che devo farci? Non capisco. Se è un loop... Ah, vabbè. Ci siamo andati alla busta. Vuoi davvero tornare indietro? Ma tendenzialmente sì, amico. Ah, a parte che tanto sul nonno ci possa andare. Quindi sì, sì, grazie. Guardate di tornare indietro. Perché adesso ci si vede il puntatore del mouse? Cosa... Dove siamo finiti? Left. Un occhio. Non lo voglio, grazie. Left. Teniamo, teniamo, teniamo. Compro una casa. Ah, ma questa forse è una critica sociale. Quindi noi compriamo la casa. I want to... Voglio tornare indietro. Voglio tornare a dormire. Le tasse. Tieni le tasse. No, le tasse non le voglio. Voglio tornare indietro. Voglio tornare a dormire. Io li sto facendo a caso questi. Ok. Qua però sembra tipo una prigione. Quindi noi siamo rinchiusi in questo luogo. Si apre una porta. Le pillole, attenzione, hanno l'occhio come quel disegno che abbiamo visto prima. Quindi? Would you like to go back? Sì, grazie. Volentieri. La ringrazio per il pensiero. Sì. Non penso starò ancora qui. Giorno 1. Urca. Perché sta piangendo? Ah, titoli di coda. This game was created. Ah, perché parte di una gem è stata creata in 48 ore. Ok. E ovviamente c'è anche questo memorandum che dice, mi raccomando, pagate le vostre tasse. Questo lo buttiamo, facciamo finta di non averlo visto. Abbiamo completato il gioco. Siamo tornati di nuovo a un menu incredibile. Beh. Per essere un gioco fatto in 48 ore è molto carino. Mi sono divertito. Carino. Un set e mezzo pieno, se lo merita. E con questo brevissimo gameplay ci salutiamo. Vi ricordo le solite cose. Di mettere like, commentare, iscrivervi al canale. Ma questa volta, oltre a ricordarvi che siamo sempre là su Twitch e il link in descrizione, in descrizione vi lascio anche il link per scaricare il 730 precompilato. Mi raccomando. E come al solito, grazie. E ci si vede al prossimo video.